In un tempo di cambiamento e incertezza come quello che stiamo vivendo, diventa cruciale che nelle imprese le persone sappiano prendere l'iniziativa, assumersi responsabilità, regalare il meglio di sé. Come si può ottenere tutto ciò? Diffondendo nell'organizzazione l'esercizio della leadership. Infatti, è oggi necessario che la leadership sia esercitata da una porzione più ampia di popolazione aziendale. Come fare? Di certo non bastano le esortazioni, né i predicozzi. Neppure servono le ormai stucchevoli litanie strappalacrime del guru di turno, o le sceneggiate di questo o quel motivatore. E allora che fare? Your leadership è la soluzione, il percorso formativo in e-learning, fondato sui passi fondamentali del processo di esercizio della team leadership. I team leader seguono individualmente il percorso formativo, programmando i moduli in autonomia secondo le loro necessità di apprendimento. Ecco i tre fattori su cui si fonda il concept di Your Leadership. 1. Non è così importante sentirsi un leader, è importante utilizzare approcci e tecniche adeguate. 2. Non basta motivare, bisogna soprattutto coinvolgere. 3. Non basta colmare le carenze, bisogna soprattutto potenziare il talento. Your Leadership si compone di sei moduli in autoapprendimento individuale, della durata di due ore ciascuno. Al termine di ogni modulo è prevista una verifica di approfondimento che abilita al modulo successivo. Al termine dell'intero percorso, è previsto un test finale che abilita all'applicazione del processo e al rilascio dell'attestato. Ognuno dei sei moduli approfondisce un aspetto del processo di esercizio della Team Leadership, fornendo tecniche applicative per un'ottimale gestione delle attività, sia di quelle che prevedono una relazione one-to-one, con ciascuno dei propri team member, sia delle attività rivolte al team nel suo complesso. Dopo aver conseguito l'attestato, ogni Team Leader può passare alla fase di applicazione del processo di Team Leadership. In questa fase il Team Leader può essere assistito da un coach, che instaurando una relazione di tutorship, lo affianca e lo guida nell'applicazione del processo. Il coach fornisce al Team Leader indicazioni pratiche e istruzioni operative, e si mette a disposizione per dipanare ogni dubbio. In questa fase, il coach non si limita a restare a disposizione, esercita al contrario un ruolo attivo, volto a promuovere un'efficace e concreta applicazione del processo di Team Leadership, Team Leadership, da parte del Team Leader. Con Your Leadership otterrai i seguenti vantaggi. 1. L'esercizio della Team Leadership non è più lasciato alla buona volontà dei singoli Team Leader, che possono invece contare su un modello e su strumenti operativi. 2. I Team Leader promuovono in modo strutturato la crescita di ogni team member, attraverso l'identificazione e il potenziamento dei fattori di successo individuali. 3. I Team Leader incrementano le prestazioni del team, attraverso l'identificazione e il potenziamento dei fattori d'eccellenza del team. Your Leadership, la soluzione integrata, interamente digitale, per estendere l'esercizio della leadership nell'organizzazione. Contatta lo staff di Alessandro Chelo e chiedi le credenziali per un accesso alla piattaforma. Potrai così sperimentare l'efficacia del percorso. Ti aspettiamo!